Nonna, sono io! Posso giocare nell'altra stanza con Ninna e Teo? Ma certo, caro! Wow! I tuoi giocattoli sono fantastici, Olga! Qui è dove stavamo giocando ieri? Forse Alice è rimasta con loro? Oh! Che meraviglia! Non credo di averla lasciata qui! Adesso riposiamoci un po', Nino! Poi ricominceremo a cercarla! Oh, la forma di nuvola! Sembrano nuvole vere! Su, andiamo, Nino! Giocchiamo insieme! Wow! Olga, hai visto? Guarda! Alice! Dove? Quando? Cosa? Sapevo che ti avrei trovato qui! Oh! No, questa è la mia bambola, Claudi! Puoi tenerla con te se ti fa piacere, Nina! No, grazie, Olga! Ora voglio tornare a casa! Mi sa che Alice è persa per sempre! Non dire così, Nina! Forse dobbiamo solo cercare meglio! Sì! E dall'alto si vede tutto! Sai, Alice potrebbe essere caduta sulla via del ritorno! Andiamo! Mi è venuta un'idea! Ciao, nanna! A presto!